ben ritrovati ragazzi per un nuovo video su youtube sul nostro canale a cimina inside oggi torno a giocare il minan femminile quindi riprendiamo questa rubrica per quanto riguarda i video sulla serie a femminile però prima di parlarvi della partita di oggi vi voglio ricordare delle cose molto importanti allora innanzitutto lasciate il like a questo video e quindi seguite anche il nostro canale youtube a cimina inside poi vi dico anche di seguire tutti i nostri format quindi a cimina inside su twitch su instagram su twitter su facebook e di andare a seguire il nostro sito internet www.aciminainside.com dove troverete tutte le notizie relative al mondo milano dalla serie a maschile la primavera la femminile aggiornamenti sulle formazioni notizie durante la settimana tutto quello che succede a milanello e non per quanto riguarda sempre il mondo via allora ora torniamo alla partita di oggi oggi alle 14 30 al centro sportivo di smara la femminile quindi le ragazze allenate da mister guns affronteranno il pomigliano partita importante per questo punto per le campane perché stanno lottando per la salvezza perché purtroppo ieri la roma ha vinto sul capo della filantina 3 a 2 e quindi diciamo ha praticamente impotecato il secondo posto quindi a tre giornate della fine tre giornate per i milan due per la roma invece perché ha giocato ieri l'anticipo la distanza a questo punto è di otto punti ovviamente il milan vincendo oggi col pomigliano si porterebbe a cinque punti di distacco però con due giornate rimanenti alla fine del campionato diciamo cinque punti sono tanti da recuperare quindi a roma basterebbe un punto per la qualificazione matematica poi ovviamente se ci mettiamo che il milan dopo la gara col pomigliano deve affrontare domenica prossima il derby contro l'inter e poi andrà a giocare l'ultima giornata di campionato a torino contro la juventus e quindi sappiamo tutti come andare a torino a vincere è difficile nel calcio tutto può succedere però ovviamente per far sì che il milan arriva secondo in questa stagione e quindi conquistare quel posto nella champions league femminile deve succedere diciamo l'impossibile cioè che il milan le vincere tutte e tre e che la roma perda entrambe le partite finali quindi le ultime due giornate di campionato quindi a questo punto possiamo dire che il secondo posto e quindi il sogno champions è svanito però speriamo di chiudere al meglio questo campionato con qualche soddisfazione quindi iniziare da oggi battendo il pomigliano poi vincere il derby visto che all'andata lo abbiamo perso malamente con quel 3 a 0 già nel primo tempo e quindi una forma di rivalsa nei confronti quindi vincere il derby anche per una soddisfazione in questa stagione e poi chissà andare a fare il colpo in a torino è giusto per chiudere al meglio il campionato anche perché di mezzo ci sarà anche la semifinale di ritorno di coppa italia ma sappiamo tutti che quella partita oramai è conclusa perché la juve albismar all'andata aveva vinto 6 a 1 quindi si ripartirà da quel punteggio e andare a vincere 6 a 0 a torino la vedo abbastanza dura e quindi praticamente impossibile che dire allora oggi la formazione è praticamente è la stessa non ci sarà griffo che ha terminato la sua stagione per l'infortunio subito in nazionale quindi è ferma stagione finita per la centrocampista scozzese in attacco piemonte la difesa sarà sempre la stessa con il rientro di codina panedas che ha scontato la squalifica e quindi oggi rientra titolare in difesa e a centrocampo al posto di crimson si dovrebbe vedere celeste purelle dal primo minuto quindi in queste ultime tre giornate vedremo purelle titolare al fianco di adami per il resto la squadra è sempre la stessa delle ultime giornate di campionato quindi come dicevo bene prima chiudere al meglio la stagione per cominciare a programmare la prossima e sperando in risultati migliori sinceramente questa stagione si aspettava qualcosa in più anche perché la squadra era partita bene ricordiamo il filotto di vittorie iniziali poi si era inceppata con il pareggio casalingo con la roma poi era tornato a vincere di nuovo a napoli a firenze poi nel finale del giorno di andata le sconfitte con l'inter e quella con la juve dove otto gol subiti e solo due fatti perché si ricordiamo avevamo perso 3 a 0 il derby 5 a 2 a torino con la juve avevano allontanato il milan dalla da quel secondo posto però gennaio era ricominciato alla grande perché con la supercoppa italiana si è persa in finale con la juve ma solo alla fine dopo aver fatto una grande partita aveva battuto il semifinale la roma giocando meglio di loro e quindi si pensava a qualcosa di più di questo terzo posto terzo barra quarto posto perché ora bisogna vedere i risultati finali e quindi anche bisogna stare attenti all'empoli dietro in classifica che attualmente è quarto e poi in campionato si è ripreso vincente le partite con verona sandoria lazio poi sono arrivati i pareggi con sassuolo 00 dove abbiamo giocato praticamente tutta la partita in 11 contro 10 per l'espulsione della calciatrice del sassuolo dopo 10 minuti per fallo su thomas ma non siamo riusciti a concretizzare quindi abbiamo terminato 0 0 la gara e poi la settimana successiva c'è stato il pareggio a roma 1 1 dopo essere passati in vantaggio ci siamo fatti raggiungere da le giallorosse che sinceramente non meritava una sconfitta per come si era messa la partita due legni e salvataggi sulla linea però in quel frangente in quelle due gare abbiamo perso punti che ci potevano riavvicinare alla retta se poi ci mettiamo che la roma pareggia a torino con la juve e noi non riusciamo a battere il napoli in classifica in campionato a quel punto è abbastanza difficile raggiungere il secondo posto e quindi quei cinque punti di distacco ci sono rimasti con la vittoria ieri delle giallorosse sul campo della fiorentina praticamente concluso la stagione rossonera perché come dicevamo a due giornate della fine milan e affrontare la terza oggi col pomigliano però saranno sempre cinque con la vittoria eventuale oggi contro le campane e cinque punti da recuperare a due giornate alla fine sono pressoché non possibili comunque cerchiamo di chiudere al meglio la stagione e poi programmare iniziare a programmare la prossima sperando di avere risultati migliori grazie a tutti per aver visto questo video vi ricordo sempre di lasciare il like e seguire questo canale youtube e poi tutti i nostri format quindi da partire da twitch instagram facebook twitter e andare a visitare il nostro sito internet www.acmilaninside.com grazie a tutti e sempre forza mila ciao ciao